Questo programma contiene linguaggio volgare, scene e riferimenti sessuali dall'inizio alla fine. Mi viene da piangere? No, non piangere. Ragazzi, volevo davvero ringraziarvi tutti. No, no, smettitelo. Dai, che ho decenni a film. Ho rinunciato a tante cose in passato perché pensavo solo alla mia carriera, ma vivere qui mi ha dato la possibilità di vivere alcuni di quei momenti. Ciao, vi voglio bene. Ciao, Amelia. Ciao. A presto, piccola. Tutta questa esperienza è stata assolutamente fantastica e spero solo che ci rivedremo ancora tutti. Abbracciami. Oh, ti voglio bene. Me ne vado da questa casa piena di felicità. Dopo tutto quello che abbiamo passato, Chloe e io siamo ancora più amiche che in passato. Non sporcarmi la ferpa col picco. Abbracciamoci a distanza. Sono orgoglioso di te. Ti voglio bene. Questa famiglia si è separata e riunita. Si è divertita e scatenata. Non vorrei mai e poi mai niente di diverso. Ciao, ragazzi. Ma è sporca di pasta. Non fate niente che non farei anch'io. Non fatevi una sveltina. No, no. Ci sono stati tanti alti e bassi. Abbiamo perso due membri della famiglia. Ma sono felice di essere stato vicino a tutti quando ne hanno avuto bisogno. Oh, Abby, è sporca di merda. No, è sporca di pasta. Oh, mamma mia, Nata! Cosa? Rallenta! Ciao. Ciao. Volevo dirti che sono davvero grata che tu sia arrivato. Quando sono entrata in questa casa stavo malissimo e tu mi hai aiutata tanto. Voglio ringraziarti tanto, davvero. Continuerò a farti sentire così. Siamo amici, siamo d'accordo su tutto, ma non ti permetterò mai più di tornare a sentirti male. Mi piace questa versione di Chloe. Anche se Chloe e io siamo solo amici adesso, è stata una parte importante della mia vita in questa casa e le voglio bene da morire. Ciao, casa! Ti apprezzo davvero, davvero tanto. Grazie per tutto. So di non essere di qua, ma adesso questa è casa mia. Chloe? Ciao. Voglio bene? Non ho il tuo numero. Cosa? Ti scrivo su Instagram. Ti risponderò subito, non preoccuparti. Bacio. Mi sembra ieri che sono entrato in questa casa. È stato un turbine. Ero felice quando mi hanno chiamato per questo lavoro e, anche se non tornassi, sono felice di aver conosciuto la famiglia. Non sono mai stata nella posizione in cui piaccio a due e non so come comportarmi. C'è qualcosa tra di noi. Provo davvero qualcosa per lui. Sono felice di stare da sola e di essere single. È ora di andare. Anche se lui e io non stiamo insieme, posso dire con sincerità che sono felice che quel ragazzo sia entrato nella casa. Per la prima volta in vita mia, non ho permesso a un ragazzo di farmi male e sono felice di dire che me ne vado contenta come non mai. Ciao, casa! Ciao!